buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di zotero un'applicazione molto utile per gestire riferimenti bibliografici e che permette di organizzare le ricerche bibliografiche effettuate sul web direttamente sul proprio computer e quindi permette di creare un proprio archivio bibliografico e di importare anche le citazioni da altri programmi di esportarle e di condividerle per poter iniziare ad utilizzare l'applicazione è necessario scaricarla e zotero è disponibile sia per mac che per ios windows linux e anche come estensione di chrome una volta scaricata l'applicazione apparirà la dashboard del proprio account qui sarà possibile iniziare a importare i vari riferimenti bibliografici per farlo ci sono diverse modalità una di queste è l'installazione di zotero connector che consiste in un'estensione da installare appunto sul proprio browser in modo tale che ogni volta che si sta navigando in una pagina web e si desidera salvare qualcosa basterà cliccarci sopra e questa verrà importata direttamente nella propria biblioteca personale quindi per esempio se stiamo navigando potremo salvare la pagina tramite uno screenshot verrà salvata direttamente su zotero come è possibile notare oppure selezionare quello che è di nostro interesse e cliccare su save to zotero però in questo caso andrà a salvare anche una serie di metadati utili appunto per i nostri riferimenti bibliografici ci sono poi altri modi per importare i riferimenti bibliografici nella propria biblioteca personale uno di questi consiste nel trascinare il documento pdf dal nostro pc trascinarlo qui all'interno di questa finestra successivamente zotero estrarrà le informazioni relative al documento che appariranno come appunto metadati qui nella finestra di destra gli altri modi consistono nell'importazione tramite identificatore quindi si potrà inserire appunto un codice identificativo come per esempio quello di un libro e verrà aggiunto direttamente alla biblioteca oppure un altro metodo di importazione riguarda l'inserimento manuale quindi si andrà a cliccare l'elemento in questione quindi un libro un documento un articolo e si andranno a inserire manualmente i vari metadati ogni riferimento bibliografico poi può essere esportato basterà cliccarci sopra e andare a esportare l'elemento poi in diversi formati e in oltre è possibile organizzare i propri riferimenti in cartelle per esempio in base a un tema o un argomento specifico un'altra funzionalità interessante di zotero è che permette di inserire le citazioni che noi abbiamo inserito nella nostra biblioteca personale direttamente in un programma di gestione testi come può essere per esempio word in questo caso basterà aprire word e si troverà direttamente l'icona di zotero quindi tramite questa funzione si possono sia inserire le citazioni nel testo che andare a inserire un'intera bibliografia come abbiamo visto zotero è un'applicazione molto utile per gestire e organizzare i riferimenti bibliografici e soprattutto permette di inserirli in modo corretto nei vari documenti che dobbiamo andare a creare come può essere una tesina una tesi o altri tipi di documenti in quanto fornisce tutte le informazioni relative all'inserimento dei dati nelle bibliografie o nelle citazioni dei testi il video tutorial è terminato e auguro una buona giornata a tutti